La mia famiglia e quella dei nostri soci, 20 anni fa, hanno rilevato a Flumeri, un piccolo paese nell'entroterra campana, un piccolo pastificio. Ci siamo appassionati immediatamente a questa avventura incredibile e abbiamo iniziato a crederci, a investire moltissimo e a costruire qualcosa di importante, grazie all'aiuto di tutti quelli che lavorano con noi e anche di forze nuove che poi si sono aggiunte negli anni. Oggi siamo tra i primi cinque pastifici d'Italia per capacità produttiva. Il progetto Gran Almando è un progetto di filiera, è un patto di filiera costruito con gli agricoltori italiani provenienti da nove regioni italiane, nato qualche anno fa, pochi anni fa, appena tre anni fa. Con questi agricoltori abbiamo stabilito un rapporto profondo e anche onesto e abbiamo coinvolti in questo progetto che rivitalizza l'agricoltura. Lo abbiamo fatto in un momento in cui in Italia si abbandonavano i campi, si abbandonava la coltivazione del grano duro perché non era conveniente e noi gli abbiamo fatto credere e li abbiamo convinti, dimostrandogli poi anche i risultati, che si poteva invece investire anche e vivere di agricoltura. Ci siamo riusciti grazie soprattutto alle forze nuove, ai figli degli agricoltori, ai giovani che evidentemente hanno percepito qualcosa di buono, di nuovo e che sono tornati a lavorare i campi, sono tornati a investire la propria vita nelle aziende di famiglia. Armando non sarebbe stato possibile senza la partnership fondamentale con Singenta, la quale ha fornito un'assistenza, fornisce un'assistenza tecnica ed agronomica a tutti gli agricoltori, quindi li assiste durante tutto il percorso, la semina fino al raccolto. La partnership con Singenta ci ha reso più forti e consapevoli che in qualche modo stavamo creando qualcosa di speciale, non solo per l'agricoltura ma anche per la società, la società agricola, perché era una società debilitata, scoraggiata, che non credeva in quello che stava facendo. Invece noi gli abbiamo ridato una fiducia nel futuro, una speranza per il futuro. Vorrei tra l'altro citare quest'anno una borsa di studio che insieme a Singenta abbiamo offerto ai figli degli agricoltori una borsa di studio che gli consentirà di realizzare qualcosa di importante, un master in economia e quindi è un altro tassello di questo bellissimo progetto. Molti elementi del Good Growth Plan sono sintetizzati nel progetto Armando, quindi Armando è in qualche modo figlio anche di questa visione. Tutti i bei progetti nascono da una visione e da questa collaborazione con Singenta può nascere solo qualcosa di positivo.